ok ragazzi allora se abbiamo bisogno di resettare per qualsiasi motivo la batteria del midrone questo è il sistema allora va sollevato questo coperchietto una volta tolto questo coperchietto dobbiamo andare a svitare queste quattro viti uno due tre e quattro una volta tolte queste quattro viti andremo a sfilare questa parte e andremo a togliere il connettore che fa il bilanciamento delle celle ed ecco che il nostro coperchio è venuto via questo è il connettore che dovremmo andare a scollegare ed ecco il nostro connettore scollegato ora con il connettore scollegato andiamo a collegare il caricabatteria ok ora possiamo scollegarlo andiamo a ricollegare il connettore colleghiamo di nuovo il caricabatterie e vedrete che adesso il reset della batteria è andato a buon fine e ha ripreso la normale carica ora possiamo tranquillamente rimontare prima questo carterino e infine il coperchietto ciao ragazzi alla prossima